Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a preparare insieme il frosting al cioccolato per andare a decorare per bene magari un muffin, un cupcake oppure una torta e niente è molto semplice iniziamo subito. Prima cosa andiamo ad amalgamare il mascarpone, in questo caso 250 grammi e con un cucchiaio di circa 50 grammi di nutella e andiamo ad amalgamare bene con una spatola in modo da rendere tutto il composto molto uniforme. Guardate che bella consistenza e ho messo la sacca a pascia all'interno di un bicchiere con già il beccuccio in modo da facilitare bene il tutto e vado semplicemente a mettere il composto all'interno, dovrebbe starci tutto e niente andiamo poi tranquillamente è pronto e andiamo poi ad utilizzarlo su dove preferiamo ecco. E ora ecco il risultato, in questo caso vado a fare dei muffin che personalmente uscirà come ricetta e niente, guardate la consistenza è quella giusta, basterà poi ovviamente siccome l'ho lasciato in frigo sono un po' all'inizio duretti ma appena li usiamo spesso ecco si riscaldano e sarà molto più facile utilizzarli. Questo frosting piace veramente a tutte le persone. E niente, come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando iscrivetevi sul mio canale e volete sempre aggiornati su tutti i video. Ciao a tutti!